Il movimento degli universi, i fratelli dello spazio attraverso Wanda a cura di Vubi. Il nostro piccolo compito di oggi era spiegarti il movimento degli universi. Diversamente da come si potrebbe pensare, la rotazione non consiste in un solo ed unico movimento coinvolgente tutto il cosmo. Non è così. Ogni universo ha il suo cammino, il suo compito e le sue leggi che vanno rispettate. Nella fantasia di alcuni umani si è formata un'immagine ed essi credono di conoscere il movimento di vita di alcuni pianeti. E li rappresentano visivamente come civiltà. Uomini ragno, leoni, esseri diversi da voi e altamente intelligenti. Raffigurate addirittura guerre stellari. Sembra soltanto un galoppare della vostra fantasia, ma in verità vi basate sulle reminiscenze di un vostro trascorso. Nella vostra immaginazione si proiettano cose vissute ed esistenti, anche se non necessariamente da paragonare tutte a livello umano, come fate voi. Le vostre descrizioni, pur se anomale rispetto al vostro mondo, risultano così diverse dal reale.